Ieri sera al Teatro San Carlo presentazione del Foligno Calcio che domenica 7 a settembre a Blasone incontrerà la Robruziena per la prima giornata del campionato di Serie D 2014-2015. Come negli anni precedenti molta la partecipazione degli sportivi e dei tifosi, presente anche Enrico Tortolini, consigliere comunale di Foligno, con Della Colosporti. Hanno presentato l'immancabile Emanuela Marinangeli e il collega giornalista Fabio Luccioli che hanno salutato le autorità intervenute districandosi poi con molta abilità fra dirigenti, tecnici, staff medico, sponsor e giocatori dei settori giovani di prima squadra. Prima delle presentazioni una carrellata video su tutti i gol della squadra della scorsa stagione, quindi le nove maglie del Foligno indossate a due splendide ragazze. Poi sul palco il presidente Sauro Liberti, il DS Roberto Ramaschi e tutti i componenti dell'organigramma societario. Il segretario Annipoletti, che ha sostituito Simone Ottaviani, è andato a Perugia. Poi Campagnacci, Renzini, Bianchini, Prato, Soli, Corlachini, Trabalsa e Pioli. Lunga la lista dell'organigramma del settore giovanile. E tutti i ragazzi sul palco con in testa il responsabile Federico Ranucci. I presentatori, insieme a Roberto Ramaschi, hanno poi parlato degli abbonamenti con protagonisti tre falchetti docche, Matteo Coresi e Filippo Petterini, a ritorno in biancazzurro e Claudio Menchinella, vera bandiera a biancazzurra. Negli ultimi a salire sul palco, chiamati uno per uno ed annunciati anche dall'immagine video, i 22 titolari della prima squadra, con l'allenatore Stefano Petrini, il vice Diego Gigarelli, il preparatore atletico Stefano Falcone e il preparatore portieri Mario Di Pasquale, in sostituzione di Stefano Raponi, che ha raggiunto Federico Chirubini alla Juventus.